Tra le novità introdotte da Antonio Di Nardo, neocomandante della Polizia Municipale di Sernia, anche una serie di appuntamenti dedicati alla formazione continua degli agenti. Il primo di questi si è svolto presso l'auditorium di Sernia. Sono tante le sfide che da qui a breve attendono i vigili del capologo Pentro. Meglio non farsi trovare impreparati. L'importanza della formazione per gli agenti di polizia locale, ma per tutti gli operatori, è fondamentale. Perché li mette in una condizione di sicurezza e gli dà la possibilità di interagire con l'utente, anche quello più agitato, senza creare danni all'utenza. Quindi è fondamentale anche per riuscire ad agire in tutte quelle situazioni di alto stress e molto complicate. Per solo la prima giornata, tra l'altro riservata solo al nostro comando, abbiamo invitato giusto qualche comune limitrofo. Nell'inizio di ottobre abbiamo intenzione con l'amministrazione comunale, quindi con l'assessore di Baggio, di organizzare un grosso convegno che faremo qui all'auditorium improntato su tutte le novità legislative, sulle ultime modifiche che avverranno al codice della strada nei prossimi giorni e sulla riforma cattabia proprio per dare maggiore professionalità agli operatori di polizia locale, ma non solo di Sernia ma di tutta Italia, perché inviteremo tutti i comandi d'Italia. Da un mese a Isernia, Di Nardo, si è già fatta un'idea di quali sono le criticità da affrontare. Isernia è una bellissima cittadina, sicuramente molto tranquilla. Come comando di polizia locale sicuramente va riorganizzato e abbiamo intenzione comunque anche con l'assessore di Baggio, che è l'assessore delegato alla Polizia Municipale, di organizzare una serie di incontri formativi proprio per garantire una formazione all'operatore di polizia locale e un'integrazione della polizia locale anche con le altre forze di polizia in modo da garantire una maggiore sicurezza a tutti i cittadini. Non ci sono grossi problemi, c'è qualche problemino di viabilità, parcheggio da riorganizzare e un po' di problemi la sera con la movida. Un incontro formativo che è stato apprezzato anche dai rappresentanti delle polizie municipali provenienti dai centri limitrofi, anche loro presenti all'evento. Hanno scelto docenti di prim'ordine, gli stessi docenti che hanno fatto lezioni anche a me in altri contesti, quindi senza ombra di dubbio la forza della polizia locale che si concentra soprattutto in una formazione costante e continua ha visto un nuovo volto con il nuovo comandante. Focus su tecniche di contenzione fisica e sugli aspetti normativi, un'attenzione particolare inoltre, è stata riservata anche alle problematiche correlate alla gestione delle situazioni che comportano un forte stress psicofisico. Abbiamo cominciato da quello che riteniamo sia una doverosa premessa soprattutto del quadro normativo di riferimento, quindi in che ambito si muovono gli agenti di polizia municipale e in generale degli agenti di polizia giudiziaria. Essenzialmente quello che deve fare la polizia di prossimità per essere presente sul territorio, quindi qual è l'ambito in cui possono muoversi per operare al servizio della cittadinanza. L'idea era nata proprio da questo, soprattutto per quanto riguarda la descalation, quindi il ridurre al minimo i momenti di conflitto.